Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar dedicato alla costruzione di applicazioni web in modalità serverless. Io sono Pier Giorgio Malusardi, sono un Solution Architect di Amazon Web Services Italia. Questo webinar è parte di un percorso che potete seguire in diversi step. Il primo passaggio è quello di seguire, come probabilmente avete già fatto, una serie di webinar live in collaborazione con Foro PA nel periodo da il 15 settembre al 20 ottobre 2020. Il secondo step, che è quello a cui state partecipando in questo momento, è invece la possibilità di accedere a un hub dove trovate una serie di contenuti che vi permetteranno di approfondire le diverse tematiche affrontate nel primo step. Il terzo step sarà invece la possibilità di partecipare a una serie di office hour con degli SA per approfondire ulteriormente gli argomenti che trattiamo negli step 1 e negli step 2 e che vi consentirà di porre delle domande a degli esperti sulle varie tematiche. Ma perché siamo qui oggi? Qual è la motivazione per cui facciamo questo webinar? L'idea è quella di cercare di capire come sta evolvendo lo sviluppo delle applicazioni web e come il mondo serverless possa aiutare a costruire queste applicazioni in una nuova modalità che consente di costruire applicazioni che siano massivamente scalabili, che sono altamente affidabili e full tolerant, quindi che riescano a resistere a problemi che si sviluppano nei diversi componenti, che siano facilmente messe in sicurezza e i cui costi sono allineati all'utilizzo e che quindi non abbiano costi up front. Tutto questo senza gestire un singolo server o dei container o la parte di orchestrazione dei container, senza dover in qualche modo avere a che fare con la gestione dell'infrastruttura, dei sistemi operativi e quant'altro e che ci consenta di evitare di avere il focus sui sistemi e sulle metriche generate dei sistemi per definire la scalabilità delle applicazioni. Se noi andiamo ad analizzare qual è un tipico stack tecnologico di un'applicazione web, vediamo che tipicamente è costituita da tre grandi macro componenti, un front end, un back end e un livello di salvataggio dei dati tipicamente rappresentato da dei database. Come questi tre componenti possono essere trasformati utilizzando dei componenti serverless? Vediamo di analizzare ciascuno di questi tre elementi partendo dal front end. Quali sono nel mondo AWS le tecnologie o i servizi che possiamo utilizzare per costruire dei front end? Ma vediamo prima una breve storia. Come è evoluto il front end? Bene, nel 2005 abbiamo iniziato a utilizzare Ajax, quindi uno sviluppo di tipo professionale del front end. Nel 2009 si raggiunge sostanzialmente con Node.js e con tutti i framework derivati da questo la maturità dei front end. Nel 2013 si inizia a introdurre la componentizzazione del front end sostanzialmente utilizzando React. E nel 2020 qual è la possibile evoluzione? Serverless è una possibile evoluzione di questo trend. Il webinar di oggi cercherà di mostrare come questo sia in realtà vero, quindi come sia possibile utilizzare serverless come strumento di evoluzione anche della parte front end delle applicazioni web. Che cosa mette a disposizione AWS oggi per costruire delle applicazioni serverless? In particolare iniziamo, come dicevamo, a focalizzarci sulla parte front end. Sostanzialmente abbiamo a disposizione due grandi strumenti. Da un lato abbiamo Amazon S3, che oltre a essere l'Object Store è anche uno strumento che può essere utilizzato come un server web di tipo statico e che ci consente di costruire il nostro front end esattamente come vogliamo noi. Dall'altra parte abbiamo AWS Amplify Console o AWS Amplify. Vediamo lì un pochino più in dettaglio questi due, partendo da S3. Allora, S3 come dicevamo è un cloud storage di tipo Object Store, pensato per internet. Quindi all'interno di Bucket S3, quindi contenitori che potete definire all'interno della vostra infrastruttura di storage ad oggetti S3, potete mettere qualsiasi tipo di oggette. Questo storage ha una durabilità, è progettato per avere una durabilità di 11,9, quindi 99,999, 9 volte 9 insomma. Virtualmente è illimitato, quindi potete evitare di preoccuparvi di fare capacity planning di questo oggetto, perché man mano che andate a inserire nuovi oggetti avrete a disposizione nuovo storage. Ogni oggetto può avere una dimensione massima di 5 terabyte, quindi oggetti di una dimensione significativa. E all'interno di uno storage S3 voi potete mettere tutti gli oggetti statici, HTML, JavaScript, immagini e quant'altro, che servono a costruire la vostra front-end, potete salvare i backup, potete mettere i log dalle vostre applicazioni, potete salvare dei record definiti da voi, potete salvare degli oggetti di tipo media, quindi filmati, audio e quant'altro. E sulla base di questo potete quindi costruirvi il vostro front-end esattamente come desiderate. Tipicamente, quando si costruisce un front-end di tipo statico utilizzando Amazon S3, di fronte ad Amazon S3 si va a implementare un'infrastruttura CloudFront, CloudFront è la CDN di Amazon, che vi consente di rendere disponibili gli oggetti conservati in Amazon S3 in giro per il mondo, quindi rendere gli oggetti più vicini al fruitore dell'oggetto stesso, vi consente di andare a implementare, per esempio, delle architetture che utilizzano dei custom domain, vi consente di andare ad associare dei certificati per implementare HTTPS e così via. Dall'altra parte abbiamo invece AWS Amplify. Amplify è un servizio rilasciato ormai da qualche tempo, costruito utilizzando S3 come back-end, quindi in realtà, se volete, per quanto riguarda la costruzione di un front-end, è un'evoluzione di S3, un'evoluzione dei servizi che S3 vi mette a disposizione. Si integra con Git, è possibile, utilizzando AWS Amplify, costruire dei workflow di tipo CICD, che supporta anche delle branch. Si integra in modo nativo con Amazon CloudFront, quindi l'integrazione tra lo storage ad oggetto alle spalle e la parte di content delivery network, che viene in questo caso semplificata, supporta dei controlli di autenticazione e di autorizzazione, supporta il custom domain, quindi potete utilizzare il dominio della vostra azienda o della vostra organizzazione come punto d'accesso, implementa in modo nativo, in modo built-in, i rewrite e i redirect sui singoli oggetti che mettete a disposizione ai vostri clienti e si integra con i più diffusi framework per costruzione di front-end, quindi V, Angular, React, ma anche con strumenti di generazione di siti statici tipo Jekyll o Hugo. Quindi è uno strumento che in qualche modo si sovrappone a S3, vi mette a disposizione ulteriori servizi e vi semplifica la costruzione della parte statica dei vostri front-end. Quindi assolutamente un servizio da prendere in considerazione. In questo caso quindi se noi pensiamo a come riscrivere la nostra classica applicazione a tre livelli di tipo web, come front-end possiamo pensare di utilizzare AWS Amplify perché vi semplifica in modo significativo la costruzione del front-end. Iniziamo a pensare al back-end. Tipicamente nel back-end viene costruita tutta la logica applicativa. Che cosa possiamo utilizzare in un mondo serverless basato sui servizi AWS per costruire questa logica applicativa? Beh, iniziamo intanto a chiarirci che cosa intendiamo con serverless in questo ambito. Intendiamo qualcosa che ci consenta di non fare provisioning in modo preventivo di un'infrastruttura e che ci consenta di non avere infrastrutture da gestire, che ci consenta di pagare semplicemente per la quantità di servizi utilizzati, quindi per il tempo, per la dimensione di servizio e così via, chi abbia capacità di scaling up and down automatico, quindi io non mi devo preoccupare di implementare architetture di scalabilità, ci penserà il servizio a farlo, e mi metto a disposizione feature built-in per l'alta affidabilità e per la messa in sicurezza della mia applicazione web. In questo ambito il servizio principe che noi possiamo prendere in considerazione tra quelli messi a disposizione da AWS è Lambda. Che cos'è Lambda sostanzialmente? Beh, Lambda è un servizio che gestisce in modo nativo il load balancing, gestisce in modo nativo l'auto scaling, quindi voi non vi dovete preoccupare di nulla per quanto riguarda la scalabilità del vostro back-end, è in grado di gestire i failure dell'infrastruttura in modo automatico e senza che voi dobbiate fare niente, vi consente di implementare sicurezza e isolamento dei diversi componenti, si preoccupa di gestire tutta la parte infrastrutturale e tutta la parte di gestione del sistema operativo e vi consente in modo automatico di gestire l'utilizzazione. Più in realtà vi mette a disposizione altre cose che vediamo nel corso di questo webinar e le gestisce per conto vostro. Quindi è un servizio che sostanzialmente vi consente di concentrarvi solamente sulla scrittura della logica applicativa della vostra applicazione web senza preoccuparvi di tutto il resto. Come funziona sostanzialmente Lambda? Allora, Lambda vi consente di scrivere dei componenti di codice in uno dei linguaggi supportati, quindi Node.js, Python, Java, C Sharp, Go, Ruby e utilizzando le runtime API di Lambda è possibile in realtà andare a costruire degli ambienti di esecuzione di linguaggi che non sono direttamente supportati. Quindi se voi avete dei componenti che volete eseguire in un linguaggio che non sia quello elencato in questa slide, potete semplicemente costruire il vostro container, utilizzare le runtime API per creare un ambiente di esecuzione del vostro linguaggio preferito e integrarlo in Lambda e quindi farlo eseguire da Lambda. Lambda viene normalmente attivato da un evento sorgente, un evento sorgente che può essere per esempio determinato dal cambio di stato in un database o in uno storage, determinato dalla richiesta fatta ad uno specifico endpoint o nel cambio di stato di una qualsiasi risorsa. Quindi viene creato un evento, l'evento in qualche modo, adesso vedremo quali sono le modalità disponibili, richiama le Lambda e le Lambda eseguono il codice scritto nel linguaggio da voi preferite e può interagire con servizi che stanno alle spalle. Quindi può interagire o con altri servizi AWS, sono supportati una grande quantità di altri servizi con cui Lambda può direttamente interagire, o in alternativa con qualsiasi infrastruttura che sia raggiungibile attraverso un API, sia questa residente in un cloud pubblico, sia questa residente in un'infrastruttura privata. Basta ovviamente che ci sia un canale di comunicazione tra il mondo AWS e la vostra infrastruttura privata. Lambda espone sostanzialmente tre diversi modelli di esecuzione. Il primo modello è un modello sincrono, dove per esempio un oggetto di cui parleremo un pochino più in dettaglio tra poco, come Amazon API Gateway, viene richiamato, quindi un API viene richiamata da un client remoto, in questo caso per esempio viene richiamata l'API per la sottomissione di un ordine, quest'API richiama una Lambda Function, gli trasferisce le informazioni relative all'ordine, la Lambda Function eseguirà tutti gli step necessari e la gestione di quell'ordine, quindi lo scriverà per esempio in un database, attiverà delle altre Lambda Function, se è il caso, o richiamerà degli altri servizi per la gestione degli ordini, e l'API Gateway in questo caso, siccome l'evento è di tipo sincrono, resterà in attesa del termine dell'esecuzione della Lambda Function per avere una risposta. Una seconda modalità di esecuzione è invece una modalità asincrona di tipo push, in questo caso dei servizi come Amazon Symbol Notification Services o Amazon S3, al fronte del ricevimento di un evento in Amazon SNS o della scrittura di un file all'interno di un bucket S3, richiamerà una Lambda Function, passandogli tutta una serie di informazioni all'interno dell'evento su che cosa è avvenuto, quindi sul contesto in cui è avvenuto questo cambiamento e sul cambiamento in se stesso, quindi per esempio il nome del file, il bucket in cui è stato salvato e così via, questa richiesta scatenerà una Lambda Function che potrà eseguire tutta la logica applicativa che voi desiderate per la gestione di questo evento. In questo specifico caso, siccome la chiamata della Lambda Function è di tipo asincrono, in realtà il servizio chiamante, quindi in questo caso S3 piuttosto che SNS, ma anche altri servizi, continueranno la loro esecuzione senza attendere il termine dell'esecuzione della Lambda Function. Il terzo modello di esecuzione è invece ancora un modello asincrono, ma di tipo stream. In questo caso dei servizi tipo Amazon DynamoDB, che è il database NoSQL di cui parleremo tra poco, o Amazon Kinesis, che è un servizio di streaming, andrà a evidenziare dei cambiamenti. In questo caso il servizio Lambda farà polling sulla risorsa DynamoDB o Amazon Kinesis e al fronte del venire di un cambiamento richiamerà la funzione specifica per la gestione dello stesso e questa funzione si preoccuperà di farsi carico del cambiamento avvenuto in DynamoDB o del stream di dati che sono presenti in Amazon Kinesis e li gestirà secondo la logica applicativa che voi avete definito. Quindi tre diverse modalità di esecuzione di una Lambda Function che rispondono a tre diverse necessità che possono presentarsi nella scrittura di un'applicazione web. Qual è il modello di prezzo delle Lambda Function? Allora, una Lambda Function viene eseguita solamente nel momento in cui c'è un evento che ne determina l'esecuzione. Quindi non si paga niente fin tanto che non viene eseguita una Lambda Function. Quando viene eseguita una Lambda Function sono sostanzialmente due i parametri di costo. Il primo è il Compute Time quindi il tempo di esecuzione della Lambda Function in incremento di 100 millisecondi e la dimensione di memoria utilizzata dalla Lambda Function che può variare tra 120 MB e 3 GB. Quindi non c'è un costo orario giornaliero o mensile minimo. Non c'è una fee per device, non c'è nessun pagamento per l'IDOL. Oltretutto le Lambda Function mettono a disposizione un free tire perpetuo che costituisce la possibilità di eseguire fino a un milione di richieste ogni mese per ogni cliente e fino a 400 GB al secondo di compute. Scusate, 400 GB di compute. Quindi i due parametri che abbiamo visto la quantità di RAM utilizzata e il tempo di esecuzione della Lambda. Quindi molto spesso per applicazioni non particolarmente intensive o con un numero limitato di utenti si può ricadere nel free tire mensile che il servizio Lambda mette a disposizione. Quindi di fatto se restiamo dentro il free tire il costo di esecuzione delle Lambda Function è zero per noi. Ho parlato di RAM parlando di Lambda Function e solo di RAM perché le Lambda espongono come unico parametro di dimensionamento del servizio la quantità di memoria assegnata alla Lambda Function. Legata alla quantità di memoria quindi al variare della quantità di memoria della Lambda Function varierà in modo automatico la percentuale di CPU quindi di core fisici o virtuali assegnati alla Lambda Function e la banda di rete messa a disposizione della Lambda Function per parlare con altri servizi. Quindi se voi per esempio avete un'applicazione dove è preponderante l'utilizzo di CPU rispetto alla quantità di memoria necessaria e avete quindi bisogno di più CPU l'unica cosa che dovete fare è aumentare la quantità di RAM messa a disposizione della Lambda Function per gestire al meglio la vostra necessità di CPU. È possibile quindi giocare sulla quantità di RAM messa a disposizione della Lambda Function per rendere la quantità di CPU disponibile più elevata e di fatto andare a ridurre per esempio il tempo di esecuzione della Lambda Function. Quindi di fatto devo trovare, posso trovare il corretto trade-off tra la quantità di RAM che assegna una Lambda Function e il tempo di esecuzione e in questo caso potrei avere assegnando più RAM a una Lambda Function un costo inferiore rispetto che assegnandone di meno perché il tempo di esecuzione diventa significativamente più basso quindi è possibile trovare un trade-off. Ci sono dei tool che vi aiutano a dimensionare correttamente la vostra Lambda Function in base al codice che andate ad eseguire. Esiste poi un permission model sulle Lambda Function quindi ogni Lambda Function ha sostanzialmente due modalità di controllo su chi può invocare la Lambda e che cosa la Lambda può invocare a sua volta. Da un lato, quindi sul lato chi può invocare una Lambda Function c'è il concetto di Function Policy quindi una policy che viene agganciata alla Lambda Function e che determina da chi può essere chiamata questa Lambda Function. Quindi se ho un bucket S3 che devi chiamare una Lambda Function per eseguire del calcoli sul quanto scritto all'interno del bucket S3 io dovrò creare una policy che renda possibile a questo S3 a questo bucket S3 chiamare la mia Lambda Function. Dall'altro lato se la mia Lambda Function deve interagire con degli altri servizi per esempio con un database DynamoDB io dovrò costruire un ruolo quindi un IAM role Identity and Access Management role che assegnerò alla Lambda Function e che conterrà i permessi che questa Lambda Function ha per interagire con altri servizi. Quindi in questo specifico caso io dovrò scrivere un ruolo che aggancerò alla mia Lambda Function e che consentirà alla mia Lambda Function di accedere al servizio DynamoDB e specificamente a una specifica o a più specifiche tabelle all'interno del servizio DynamoDB per poter andarci a scrivere o a leggere dei dati. Quindi due oggetti per definire chi può chiamare una Lambda Function e quali servizi la mia Lambda Function può chiamare. Il servizio minimo che è necessario abilitare e che la Lambda Function con cui la Lambda Function deve interagire è CloudWatch perché in questo modo consente alla mia Lambda Function di andare a scrivere i log di esecuzione in modo che per esempio possa fare troubleshooting in caso di problemi o di analisi, necessità di analisi del funzionamento della Lambda. Quindi abbiamo visto come andare a eseguire della logica applicativa ma una volta definito come eseguire una logica applicativa devo, abbiamo visto, anche definire come la invoco la mia Lambda Function. Abbiamo visto che ci sono tre diverse possibilità. Beh, se pensiamo a un'applicazione web che viene chiamata attraverso per esempio AWS Amplify qual è lo strumento che posso utilizzare per andare a invocare le mie Lambda Function? Beh, lo strumento principale in questo caso sono delle API che costituiranno la mia porta di accesso ai miei servizi di back-end in questo caso alle mie Lambda Function. Che cosa posso utilizzare? Beh, posso utilizzare un servizio che si chiama Amazon API Gateway. Amazon API Gateway è un servizio completamente gestito che mi consente di andare a definire una struttura di API esattamente come necessita la mia applicazione un front-end univoco quindi che consentirà di accedere a diverse microservices che stanno alle spalle del mio API Gateway. L'API Gateway può essere implementato in modo che esponga le API verso internet quindi di tipo pubblico e quindi richiamabile da un client remoto oppure posso andare a implementare un API Gateway di tipo privato e che verrà quindi chiamato solamente da componenti che stanno all'interno della mia infrastruttura e questi API saranno a supporto e a servizio di componenti della mia applicazione che però non sono esposti verso il mondo esterno. L'API Gateway mette a disposizione delle funzionalità di DDoS Protection e mette a disposizione delle funzionalità di throttling e quindi di gestione dei picchi di accesso. È possibile andare a integrare sistemi di autenticazione e autorizzazione adesso vedremo che cosa abbiamo a disposizione per fare autenticazione e autorizzazione utilizzando API Gateway in modo da poter definire degli accessi autenticati a delle Lambda Function e quindi dalle risorse che stanno alle spalle. L'ultima funzionalità interessante che mette a disposizione l'API Gateway è la possibilità di andare a implementare un sistema di monetizzazione dell'API quindi io posso creare dei servizi che poi vendo da altri utenti e posso assegnare a questi utenti delle caratteristiche di utilizzo quindi delle policy di utilizzo e quindi posso andare per esempio a definire le quantità di chiamate all'ora al giorno al mese posso andare a definire il numero massimo di chiamate che possono essere fatte e così via e posso tenere traccia di tutte queste attività fatta da diversi profili che ho definito in modo poi da andare a monetizzare l'utilizzo delle mie API a fronte di un superamento dei limiti che io imposto a uno specifico profilo di utilizzo dell'API posso scatenare il throttling dell'API e quindi di gestire le extra richieste per quanto riguarda la messa in sicurezza e quindi i sistemi di autorizzazione autenticazione messi a disposizione e integrabili con API gateway io ho quattro diverse possibilità la prima è quella di utilizzare dei ruoli o degli utenti delle credenziali definite in identity and access management quindi vado a definire delle policy e delle credenziali per definire chi può accedere a quali API tipicamente questo si fa quando il numero di utenti di un certo servizio è limitato o per esempio per consentire l'accesso in amministrazione alle mie API e alle miei servizi di back end posso creare quello che è chiamata lambda authorizer o se preferite custom authorizer in questo caso utilizzerò ancora una volta una lambda function per andare a validare un specifico utente e andare a creare quindi a fronte dell'autenticazione dello stesso utilizzando o out o saml come per esempio andare a creare dei token che verranno assegnati quindi al mio client remoto e che consentiranno l'accesso a tutte le API o una porzione delle stesse e così via un altro strumento che posso utilizzare è l'integrazione nativa che c'è tra l'API gateway e cognito cognito è uno strumento di autorizzazione d'autenticazione completamente gestito messo a disposizione da Amazon Web Services e in particolare vado a utilizzare in questo caso gli user pool che cosa sono gli user pool sono la definizione come dice il nome di pool di utenti che possono essere autenticati anche utilizzando servizi terzi che ne so Google Twitter Facebook e così via quindi non ho la necessità di gestire le identità localmente e posso utilizzare questa identità per consentire poi la creazione ancora una volta di un token di accesso alle risorse alle spalle dell'API gateway e per finire posso andare ad applicare quelle che vengono chiamate i resource policy quindi delle policy agganciate alle specifiche risorse che possono restringere l'utilizzo di una certa risorsa in base a determinate caratteristiche della richiesta e quindi posso consentire l'accesso a una specifica risorsa mediata da API gateway solamente per esempio se questa risorsa se questa richiesta viene da uno specifico indirizzo IP se viene da il mio virtual private cloud se viene da uno specifico account AWS e così via quindi oltre ai tre strumenti di autenticazione autorizzazione IAM permission lambda authorizer e cognito user pool posso andare ad agganciare ogni singola risorsa delle policy per restringere ulteriormente definire in modo più granulari i diritti di accesso quindi a questo punto abbiamo visto come costruire in modo semplice un frontend statico utilizzando AWS Amplify come rendere la parte dinamica della mia applicazione web disponibile utilizzando una porta di accesso che si chiama API gateway e una esecuzione di logica di back end utilizzando le lambda function resta da vedere l'ultimo pezzo e quindi tutto il mondo di persistenza dei dati e tutto il mondo se volete dei database che cosa possiamo utilizzare per andare a implementare la parte di back end quindi la parte di data store della nostra applicazione web application di tipo serverless allora AWS mette a disposizione una grande quantità diversa di database potete trovare nell'offerta AWS database tipo relazionale key value document db database in memory graph db db di tipo time series or ledger db a ciascuno di questa tipologia di database è associato un servizio diverso per cui per i database relazionali avete Aurora o RDS per key value avete Dynamo db document db per la parte document elastic cache come in memory db Neptune è il servizio di graph db time stream è il servizio di db time series e qldb è invece quantum ledger db è il ledger quindi per lo store dei vostri dati potete utilizzare nella stessa applicazione servizi di database diversi per i diversi componenti che vanno a implementare la vostra applicazione quindi l'idea è di andare a utilizzare la tipologia di database più adatto allo specifico utilizzo per cui per esempio se devo salvare che ne so io un catalogo utilizzerò un key value se devo salvare e gestire delle transazioni economiche utilizzerò Aurora per esempio e così via ok quindi quindi l'idea è non più avere un unico database che utilizzo per tutte le tipologie di dati ma ogni specifico componente della mia applicazione andrà a utilizzare una tipologia di database diverso che è il più adatto per quello specifico uso tipicamente i due oggetti più utilizzati in un'applicazione di tipo web basata su serverless sono i database di tipo le razionali che implementano appunto integrità referenziale transazioni di tipo ACID schema onwrite e così via e quindi andrò a utilizzare Aurora per esempio oppure utilizzerò un database di tipo key value per tutta la parte di salvataggio dello stato per gestire che ne so le shopping card i dati che arrivano dai social i cataloghi dei prodotti le preferenze degli utenti e così via i database di tipo key value hanno di DynamoDB in particolare garantiscono un elevato throughput una bassa latenza in scrittura in lettura scalabile o predefinitabile da voi e tendenzialmente scalano senza alcun limite quindi sono in grado di supportare applicazioni che possono avere dei picchi di utilizzo inaspettati che crescono nel tempo in termini di utilizzo e di numero di utenti gestiti e così via se ci concentriamo un attimo su AmazonDB AmazonDB è il database di tipo no SQL di tipo key value che AWS mette a disposizione le caratteristiche fondamentali di questo servizio è che è un servizio di tipo serverless quindi non dovete fare nessun tipo di manutenzione autoscaling quindi scala in modo automatico a seconda delle vostre necessità oppure lo potete implementare in modalità on demand e quindi in realtà il database scalerà verso l'alto verso il basso in termini di capacità di lettura e di scrittura a seconda dell'utilizzo che ne viene fatto implementa funzionalità di tipo enterprise quindi anche con questo strumento potete andare a implementare delle transazioni di tipo ACID potete andare a implementare l'encryption at rest dei dati e potete andare a implementare backup automatizzato o on demand e di conseguenza il relativo restore l'altra caratteristica fondamentale di DynamoDB è che questo database può scalare fino a milione di richieste al secondo è possibile implementare una latenza in termini microsecondi ed è possibile anche implementare una replica globale quindi in diverse region sparse per il mondo replicare i vostri dati il concetto fondamentale di una database di questo genere quindi una database tipo KeyValue è che lo store di questo database può partizionare orizzontalmente i dati basandosi su una chiave in modo assolutamente senza limiti sostanzialmente e siccome poi noi andiamo a ritrovare gli oggetti utilizzando una chiave per ritrovare uno specifico item questa modalità di partizionamento del database ci consente di garantire delle performance sostanzialmente uniforme ma anche se il database scala in modo estremamente ampio quindi se ci concentriamo sulla nostra applicazione web abbiamo individuato anche qual è l'ultimo possibile componente che possiamo andare a utilizzare che è per fare tutta la parte di data store potrebbe essere per esempio in questo specifico esempio il nostro Amazon DynamoDB ma rivediamo un attimo questa architettura che abbiamo disegnato in modo semplice con cinque componenti andando un pochino più in dettaglio sull'architettura stessa allora abbiamo il nostro Cloud AWS individuiamo tre diversi layer layer d'accesso che come abbiamo detto era presentato dall'API Gateway sostanzialmente per la parte dinamica abbiamo individuato la parte di compute nel servizio Lambda e abbiamo individuato la parte di storage in AmazonDB quindi noi avremo un'applicazione un client può essere un'applicazione mobile può essere un'applicazione web più tradizionale che fa delle richieste di accesso a una specifica risorsa e questa risorsa è una risorsa generata ed esposta da un'API Gateway l'API Gateway una volta che riceve una richiesta di accesso a una specifica risorsa invocherà una Lambda Function una Lambda scritta per la gestione di quella specifica richiesta lo vedremo più in dettaglio la Lambda Function processerà la richiesta in base a qual è la logica di business che vogliamo implementare e eventualmente persisterà i dati o leggerà i dati da AmazonDME questi sono i tre componenti ciascuno di questi tre componenti abbiamo visto è un componente di tipo serverless quindi la parte di gestione in carico a noi è sostanzialmente nulla noi dovremo scrivere le nostre API quindi la struttura delle nostre API noi dovremo scrivere il codice che implementa la logica di business noi dovremo definire le nostre tabelle in AmazonDB ma ci fermiamo qui tutto il resto della gestione la scalabilità la sicurezza i backup e così via è in carico ad AWS abbiamo visto che possiamo per gestire il frontend affiancare all'APA gateway che gestisce la parte dinamica l'amplify come strumento per la gestione di tutta la parte statica e abbiamo visto che possiamo andare a implementare per esempio utilizzando Amazon connito tutta la parte di autorizzazione autenticazione e autorizzazione quindi una chiamata a una specifica API posso farla passare attraverso cognito che prima di consentire l'accesso e l'invocazione della Lambda Function andrà a autenticare e autorizzare la richiesta ricevuta abbiamo poi detto che in realtà noi non andremo a scrivere una Lambda Function ma scriveremo una Lambda Function per ogni specifica API esposta dall'API Gateway quindi avremo non una ma molteplici Lambda Function quindi avremo per esempio una Lambda Function che implementerà il nostro custom autorizer quindi di fatto l'API Gateway chiamerà le funzioni di autorizzazione e autenticazione che scateneranno una Lambda Function che definirà la creazione del token che verrà assegnata per consentire accesso alle risorse per per esempio gestire una un post io scriverò una Lambda Function che genererà un URL firmato che verrà utilizzato per andare a scrivere il contenuto su uno specifico bucket SR3 se voglio avere lo stato di una certa attività supponendo che questa applicazione per esempio gestisca delle attività o lo stato di un ordine o scrivere qualcosa relativo ad un ordine scusate o leggere qualcosa relativo ad un ordine io implementerò un API di tipo GET che scatenerà una specifica Lambda Function che andrà a leggere in Amazon DynamoDB lo stato di quella specifica attività oppure posso andare a richiedere per esempio attraverso un'altra API l'elenco delle mie attività per esempio l'elenco di tutti i miei ordini e ancora una volta una specifica Lambda Function andrà a implementare la logica di business che leggerà da AmazonDB l'elenco di tutte le mie attività di tutti i miei ordini per esempio quindi attraverso l'API Gateway io posso andare a implementare diverse API che scateneranno l'esecuzione di diverse Lambda Function ciascuna delle quali è disegnata specificamente per eseguire una e una sola azione molto ben definita quindi di fatto stiamo andando a implementare un sistema microservices in questa modalità quindi andiamo a utilizzare diverse Lambda in ciascuna delle quali andrà a implementare un microservizio è chiaro che in questo momento noi stiamo disegnando un'applicazione piuttosto semplice nella sua implementazione dove ma dovete pensare alle Lambda che vedete in questa slide moltiplicarsi a seconda delle necessità della vostra specifica applicazione e di conseguenza le API che le richiama ovviamente se pensiamo per esempio all'API che gestisce l'accesso al nostro bucket S3 per per esempio la scrittura di un file questa API andrà scusate questa Lambda Function andrà a interagire direttamente con il servizio S3 andrà quindi a scrivere in questo caso un file all'interno di un repository che è il nostro il nostro bucket S3 in realtà questa Lambda Function genererà un un URL firmato che verrà passato all'applicazione di frontend che poi effettuerà autorizzata l'upload su quello specifico bucket in realtà la Lambda Function può anche scrivere dei metadati relativo all'oggetto che viene caricato in una tabella DynamoDB e quindi poi io potrò utilizzare questo meccanismo per andare a ritrovare più facilmente un certo contenuto utilizzando i metadati scrittori in DynamoDB per ritrovare l'oggetto nel bucket S3 questa è una delle possibilità che posso implementare ma ovviamente non è tutto qui perché quella che abbiamo disegnato fino ad adesso è un'applicazione piuttosto semplice che però rappresenta veramente le funzionalità minime di base per l'implementazione di un'applicazione di tipo web moderna quindi andiamo a introdurre piano piano altri componenti e prima di fare questo però pensiamo un attimo alla nostra applicazione microservices tipicamente un'applicazione a microservices la possiamo pensare se volete come un iceberg dove c'è una parte che è fuori dalla linea dell'acqua che è la parte pubblica e che però rappresenta una porzione minimale della mia applicazione quella visibile a tutto il mondo e accessibile a tutto il mondo al di sotto della linea d'acqua diciamo così posso andare a implementare una serie di altri componenti di altri microservizi che sono specifici per l'esecuzione di attività a supporto della mia applicazione che però non devono essere esposte pubblicamente allora la domanda che ci si pone che ci si deve porre è ma tutte queste componenti che stanno al di sotto della linea d'acqua del mio iceberg che è la mia applicazione microservices e serverless devono necessariamente utilizzare degli api per dialogare tra di loro in alcuni casi si nel qual caso posso per esempio utilizzare l'api gateway in modalità private ma non necessariamente cioè posso avere tutta una serie di componenti che possono dialogare tra di loro non utilizzando degli api ma che per esempio possono dialogare tra di loro utilizzando un meccanismo di messaggistica o di code e quindi in questo caso io devo andare a introdurre nell'architettura della mia applicazione altri servizi che consentono ai diversi componenti della mia applicazione di dialogare tra di loro in modo asincrono in questo caso utilizzando qualcosa di diverso rispetto alle api quindi non necessariamente dicevamo tutti i componenti della mia applicazione devono dialogare tra di loro utilizzando delle api quindi concentriamoci un attimo adesso sui componenti che devono dialogare tra di loro senza utilizzare delle api abbiamo detto che per quei componenti che stanno che non sono esposti pubblicamente che devono dialogare tra di loro utilizzando delle api io posso utilizzare un'implementazione di tipo private del mio api gateway ma per tutti gli altri che cosa posso utilizzare ok vediamo quali sono i pattern che posso utilizzare per far dialogare tra di loro diverse componenti in un'architettura microservizi allora il primo servizio che posso utilizzare è un servizio che si chiama Simple Notification Service SNS Amazon SNS che cos'è sostanzialmente riprendiamo la definizione che troviamo sul sito pubblico di Amazon Web Services relativo a questo servizio quindi SNS è un servizio semplice lo dice anche il nome flessibile completamente gestito quindi non dovete ancora una volta gestire niente a livello di infrastruttura quindi di fatto è serverless è un servizio di publish and subscribe quindi mi consente di implementare una messaggistica di tipo publish and subscribe questo mi consente di implementare un servizio di push delle notifiche ok il servizio è in grado di gestire dei throughput molto elevati di messaggi e mi consente di consegnare in modo affidabile i messaggi che vado a inserire all'interno del servizio stesso quali sono i casi d'uso di questo servizio beh utilizzerò questo servizio tutta una volta per esempio tutte le volte per esempio che devo andare a notificare qualcosa a più subscriber all'interno di un'applicazione pensiamo per esempio un ordine ricevo un ordine e questo ordine dovrà essere gestito da diversi componenti il servizio il micro servizio che si occupa dell'interazione con il fornitore della carta di credito per esempio il servizio che gestisce il carrello il servizio che scatena la delivery dell'oggetto comprato in realtà tutto questo parte da un unico evento da un unico messaggio che è la notifica del fatto che è avvenuto un ordine posso utilizzare questo servizio per esempio per replicare dati tra region diverse oppure posso utilizzarlo per invocare passaggi multipli e paralleli all'interno di un flusso posso utilizzarlo per scatenare altre azioni quindi per fare il triggering di altre azioni la parte interessante di questo servizio è l'alta affidabilità nella delivery dei messaggi di una grande quantità di messaggi a un numero significativo di recipienti diversi utilizzando protocolli diversi quindi come funziona l'oggetto ancora una volta integrazione con con lambda quindi sns più lambda per implementare la mia applicazione quindi io avrò una certa quantità di dati che viene scritto all'interno come un messaggio all'interno di quello che viene chiamato un topic sns se preferite una coda il topic può avere più subscriber quindi più servizi diversi che hanno sottoscritto quello specifico topic quindi i messaggi che entreranno in quel topic verranno indirizzati attraverso un meccanismo di fanout a diversi sottoscrittori utilizzando anche dei protocolli diversi quindi posso utilizzare http https può essere un device di tipo mobile può essere una coda può essere una lambda function nel caso sia una lambda function quando il servizio riceve un nuovo messaggio all'interno del topic la lambda function o le lambda function anche diverse che fanno cose diverse vengono scatenate vengono invocate e eseguiranno la logica specifica di quella lambda function sul contenuto del messaggio stesso i messaggi possono essere anche filtrati e quindi su una base del contenuto del messaggio stesso e quindi uno specifico messaggio può essere inviato sotto a certi subscriber e non ad altri un'altra caratteristica di sns che implementa un meccanismo di tipo asincrono quindi il servizio che ha scritto il messaggio nel topic proseguirà poi la sua attività senza aspettare che il messaggio stesso venga in qualche modo elaborato dai sottoscrittori un altro servizio che posso utilizzare per far dialogare tra di loro diversi componenti della mia applicazione microservices è il servizio amazon simple q service o sqs sqs ancora una volta prendiamo la definizione dal sito web è un servizio semplice fessibile ancora una volta completamente gestito quindi ancora una volta di tipo serverless di gestione di una di code due tipi differenti di code code standard e code di tipo first in first out questo servizio mi consente la scambio tra diversi componenti in modo affidabile di una grande quantità di messaggi quando dovrei utilizzare questo servizio beh quando devo andare a implementare un disaccompiamento tra servizi diversi per esempio un caso tipico è andare a implementare una coda sqs per gestire picchi per cui ho un servizio in grado di ricevere una grande quantità di richieste che devono essere elaborato da un servizio che ha dei tempi di esecuzione di un certo tipo e quindi non riesce a mantenere lo stesso throughput in gestione delle richieste quindi di mezzo ci metto una coda e il mio servizio di elaborazione andrà a scodare i diversi messaggi e porterà a termine l'esecuzione ok quindi mi consente di andare a implementare questo disaccoppiamento tra servizi diversi rendendo molto più scalabile la mia infrastruttura microservizi mi consente di implementare dei servizi distribuiti e quindi di andare a costruire delle applicazioni di tipo serverless in cloud che siano più affidabili anche a fronte per esempio di un malfunzionamento di un componente se il componente di elaborazione dei dati è per esempio in quel momento ha qualche problema o banalmente sto aggiornando la versione del servizio la coda mi consente di gestire queste situazioni le caratteristiche fondamentali quindi le caratteristiche più interessanti sono la scalabilità di questo servizio questo servizio scala senza bisogno che voi facciate pre-provisioning di una certa capacity ok e l'altro aspetto interessante è che questo servizio è il primo servizio in termini di servizi che scatenano delle lambda function quindi di fatto è il servizio più utilizzato per scatenare delle lambda function tra l'altro è anche probabilmente il primo servizio implementato da AWS ancora prima che AWS esistesse come entità che forniva servizi al di fuori di Amazon quindi come funziona in questo caso beh avremo una serie di messaggi questi messaggi sono inseriti all'interno di una coda l'inserimento di un messaggio all'interno di una coda determinerà l'invocazione di una lambda function questa lambda function elaborerà il messaggio ok e l'elaborazione del messaggio porterà alla scrittura o l'esecuzione di qualcosa la scrittura di qualcosa in un database ma potrebbe anche scatenare a sua volta delle lambda function scrivere altri messaggi in un'altra coda e così via una volta portata a termine l'esecuzione sul messaggio ricevuto SQS rimuoverà il messaggio dalla coda dopo aver ottenuto una risposta di tipo andata a buon fine dalla lambda function i messaggi inseriti nella coda vengono in realtà elaborati in batches non un messaggio per volta ma gruppi di messaggi ok e abbiamo detto che esistono due diverse tipologie di coda una standard queue che implementa una modalità di at least once delivery quindi ogni messaggio è di ogni messaggio viene fatto la delivery almeno una volta che vuol dire che non è garantito che lo stesso messaggio possa essere elaborato più volte quindi devo in qualche modo gestire questa situazione all'interno della mia logica applicativa oppure delle code di tipo fifo le code di tipo fifo gestiscono l'ordine di arrivo dei messaggi e quindi l'ordine di delivery dei messaggi il primo messaggio che viene inserito nella coda sarà il primo messaggio da essere elaborato viene ogni messaggio eseguito esattamente una sola volta quindi elaborata una sola volta e quindi ho la garanzia della non ripetizione dell'esecuzione dell'elaborazione di ogni singolo messaggio tutto questo però ha scapito di un minor numero di transazioni eseguibile per secondo quindi le code di tipo fifo fatemi dire sono più lente se mi passate questo termine rispetto a una coda di tipo standard però mi evitano di andare a implementare tutta la gestione della doppia elaborazione di ogni singolo messaggio ogni messaggio resta nella coda per un tempo definito di visibilità che è anche programmabile ok quando questo timeout scade il messaggio non è più visibile nella coda e ancora una volta questo servizio implementa un dialogo di tipo asincrono tra diversi messaggi ed è una gestione di tipo asincrono un'invocazione di tipo asincrono delle lambda function perché ancora una volta il servizio o l'applicazione generatrice del messaggio una volta inserito il messaggio nella coda può contenere la sua elaborazione senza aspettare la risposta dell'elaborazione quindi il termine dell'esecuzione della lambda function che deve elaborare il messaggio in realtà c'è una variante a questo è la possibilità di utilizzare Amazon Kinesis Data Stream che cos'è Kinesis Data Stream è ancora una volta un servizio completamente gestito quindi ancora una volta serverless altamente scalabile che consente di fare la collezione e il processamento in real time o near real time di stream di dati per esempio per tutto il mondo di analytics tutto il mondo di machine learning ogni stream consiste di uno o più shard ogni shard ha una quantità una capacità di elaborazione e un fruit boot ben definito quindi in questo caso io dovrò andare a aumentare o diminuire gli shard in modo da garantire la gestione del fruit boot di dati in arrivo è una cosa che posso fare anche dinamicamente non è che una volta configurato resta quella la configurazione la posso cambiare anche dinamicamente però devo andare a definire gli shard ancora una volta la lambda function che gestisce gli stream di dati in batch come dicevamo gestirà questi batch di dati quindi non un singolo evento un singolo dato ma gruppi di dati posso definire la dimensione di ogni batch e l'altra cosa interessante così come era con sqs è che posso avere più applicazioni che consumano lo stesso stream quindi io posso avere uno stream di dati che viene eletto in contemporanea da più per esempio lambda function che opereranno applicheranno una logica di business diverso sullo stesso tipo di dato ricevuto o sugli stessi batch di dati ricevuti ok abbiamo parlato di serverless abbiamo parlato di architettura microservices introduciamo un altro elemento di un'architettura di un'applicazione di tipo web di moderna e quindi introduciamo gli eventi l'idea che sta dietro l'evento è che è qualcosa di osservabile e non di direttamente gestito quindi fatemi dire io posso avere un comando di tipo diretto un comando di tipo diretto è quando io chiedo esplicitamente l'esecuzione di qualcosa quindi per esempio chiedo a un servizio creami una fattura ok e il mio servizio mi risponde dandomi la fattura ok quindi c'è una specifica richiesta a cui viene data una specifica risposta target command gli eventi invece sono qualcosa di tipo diverso quindi osservo che è avvenuto qualcosa quindi un evento è un cliente genera un ordine l'ordine viene visto la creazione di questo ordine è l'evento che è osservabile e questo evento osservabile potrà dare luogo a tutta una serie di altre attività quindi potrà essere inserito questo ordine all'interno di un report potrà scatenare l'esecuzione di un processo che genera una fattura potrà scatenare l'esecuzione di un processo che porterà alla spedizione del bene ordinato quindi due diversi modalità di ottenere alla fine per esempio lo stesso risultato una fattura noi ci concentriamo sul secondo perché le applicazioni di tipo web moderno sono event driven e non dare comanda quindi uno strumento per implementare all'interno di una applicazione tipo web moderno in cloud su AWS che gestisce gli eventi si chiama Amazon EventBridge che cos'è Amazon EventBridge ancora una volta è un servizio serverless quindi un servizio semplice flessibile completamente gestito dove si paga per quanto si consuma e che mette a disposizione un bus degli eventi sostanzialmente che mi consente di ingestire di ingerire scusatemi degli eventi e di processare gli stessi ok e questo processamento degli eventi verrà fatto da potrà essere fatto da dei servizi AWS da delle applicazioni scritte da voi che sono eseguite per esempio all'interno del vostro data center e si può integrare anche con applicazioni di terze parti di tipo SaaS per esempio questo servizio nasce di fatto da un altro servizio che è CloudWatch Event CloudWatch Event è un componente del servizio CloudWatch usa le stesse API di EventBridge o meglio EventBridge usa le stesse API di CloudWatch e quali sono i casi d'uso beh per esempio tutte le volte ho la necessità di integrare la mia applicazione con un servizio esterno di tipo SaaS e quindi ricevere da questo servizio esterno di tipo SaaS un messaggio ed eseguire qualcosa a fronte alla ricezione di questo messaggio posso utilizzare EventBridge tutte le volte che devo eseguire un workflow o applicare dell'intelligenza per esempio del machine learning su uno specifico evento tutte le volte che devo fare audit e analisi tutte le volte che devo fare sincronizzazione dei dati la cosa interessante di questo servizio è che questo servizio mette a disposizione 17 diversi target ad oggi 17 ma cresceranno nel tempo e tra target ci trovo Lambda SQS che abbiamo visto Kinesis Elastic Elastic Container Services scusatemi Batch che è un altro servizio e così via un'altra funzione interessante è che è possibile definire un registry degli schema dei messaggi quindi e gli sviluppatori potranno utilizzare funzioni tipo search find track e così via sullo schema che vengono sugli schema che vengono utilizzate dalle loro diverse applicazioni quindi c'è anche tutta la possibilità di andare a gestire un registry degli schema degli eventi e utilizzare queste informazioni prese dal registry nelle proprie applicazioni come funziona questo servizio quindi ho un evento generato o da un servizio AWS o da un'applicazione vostra o da un servizio di terze parti di tipo SAS questo evento viene pubblicato su uno specifico Event Bus messo a disposizione da Event Bridge Event Bridge consente di definire delle regole ed applicare dei filtri e le regole e i filtri servono per ruotare lo specifico evento a diverse destinazioni quindi posso andare a definire delle regole per dire questo evento va al target A ma non al target B questo va al target B ma non al target A questo va a entrambi e così via posso andare quindi a definire regole di questi tipi e filtri di questi tipi e tra i diversi target che posso andare quindi tra i diversi consumatori degli eventi che posso andare a implementare ci sono delle Lambda Function le Lambda Function possono essere diverse che analizzano ancora una volta e elaborano lo stesso evento ancora una volta sto andando a implementare un meccanismo di dialogo tra componenti diversi di tipo asincrono perché ancora una volta il generatore dell'evento una volta scritto l'evento nell'event bus continuerà a fare la sua attività senza preoccuparsi della risposta che arriverà per esempio dalla Lambda Function a seguito del processamento dell'evento stesso quindi se noi andiamo a riprendere un po' la nostra architettura che abbiamo visto fino a un attimo fa che cosa possiamo andare a inserire poi andiamo ad andare a inserire un altro componente che è il componente di gestione dei messaggi e questo componente o questo message bus posso utilizzarlo per consentire ai diversi servizi di scambiarsi i dati tra di loro in modo asincrono quindi posso andare a implementare all'interno della mia applicazione delle nuove funzionalità o dei nuovi pattern di funzionamento aggiungiamo un altro componente che è il componente di orchestrazione abbiamo visto e lo vediamo in questa slide che noi possiamo avere diverse Lambda Function in questo caso sono rappresentate diverse Lambda Function che rispondono a un API Gateway ma abbiamo anche detto che possiamo avere tutta una serie di componenti implementati anche con Lambda Function che però non espongono delle API ma che sono a supporto ed eseguono delle attività che stanno nella parte immersa del nostro iceberg che costituisce la nostra applicazione a microservices bene tutte queste funzionalità quindi implementano ciascuno un proprio componente e difficilmente un'applicazione web di tipo moderno può essere implementata utilizzando una sola Lambda Function ma io avrò bisogno di diverse Lambda Function e queste diverse Lambda Function possono dialogare tra di loro e il dialogare tra di loro di queste diverse Lambda Function può portare le diverse Lambda a dover scrivere dei dati su dei database possono dover leggere e scrivere dati su delle code possono dover accedere ad applicazioni in esecuzione su dei server anche all'interno del vostro data center in questo caso ci viene in aiuto un nuovo servizio che introduciamo in questo momento che si chiama AWS Step Function ancora una volta che cos'è Step Function è un orchestratore serverless quindi niente da gestire ancora una volta che rende semplice mettere in sequenza una serie di funzioni Lambda e di altri servizi AWS per costruire una business critical application quali sono i casi d'uso? beh sono l'orchestrazione di applicazioni tipo serverless anche con processamento parallelo di eventi piuttosto che di dati gestione degli errori automazione dei task con possibilità di costruire del ripetizione dei task in caso di problema possibilità di inserire approvazioni di tipo umano quindi manuale e la possibilità di implementare dei processamenti editati di tipo resiliente anche con dei long running workload quali sono le caratteristiche interessanti la possibilità di implementare quelli che vengono chiamati express workflow per dei workload che devono gestire un elevato throughput la possibilità di andare a costruire dei workflow nested quindi uno dentro l'altro e la possibilità di andare a implementare un'elaborazione parallela di tipo dinamica quindi che cosa come utilizziamo questo servizio andiamo a definire all'interno di un file json la struttura del nostro workflow lo possiamo mentre lo editiamo visualizzare all'interno della console e alla fine possiamo eseguire il nostro workflow anche richiamandolo esternamente attraverso delle API e monitorare la sua esecuzione quindi questo servizio di fatto ci consente di costruire un layer di orchestrazione se andiamo a introdurre questo servizio all'interno del nostro schema architetturale che abbiamo visto fino adesso abbiamo quindi la possibilità di per esempio attraverso EventBridge andare a scatenare un workflow che per esempio processa dei file salva dei dati all'interno utilizzando delle Lambda Function ancora una volta salva dei dati all'interno di un DynamoDB quindi i metadati di un evento che sta accadendo e infine pubblicare nell'applicazione una volta che il workflow è completo la risposta di tutto quanto quindi alla fine siamo riusciti a costruire un'applicazione web di tipo moderno completamente serverless utilizzando i servizi nativi di AWS con anche la possibilità di andare a integrare abbiamo detto utilizzando EventBridge dei componenti esterni di tipo SaaS che possono scatenare delle attività all'interno della nostra applicazione questo webinar finisce qua io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento nell'apprendimento di come costruire applicazioni utilizzando tecnologie serverless